Nei primi nove mesi del 2018 l'anagrafe delle imprese della provincia di Salerno ha registrato un saldo positivo pari a più 1.328 unità, dato dalla differenza tra le iscrizioni e le cessazioni. Un risultato che si traduce in cinque imprese in più al giorno nel periodo in esame. L'analisi per forma giuridica evidenzia che il positivo andamento imprenditoriale riguarda esclusivamente le società di capitale con quasi 1.500 imprese in più. Le imprese individuali, sebbene si caratterizzino come sempre per il maggior turnover, rimangono sostanzialmente stabili. Dalla distribuzione per macro settori economici delle oltre 6.000 imprese di nuova iscrizione sul livello provinciale emerge che quelle commerciali rappresentano il 29% delle iscrizioni totali, seguono le attività agricole e il settore turistico. Grazie a tutti.